Salve ragazzi sono Pier Giorgio, oggi qui al primo maggio è piove e allora ho deciso di fare un video, visto che non c'era sul web, su come si possono disinfettare correttamente i nostri strumenti di potatura. Quindi forbici da pota, troncarami, seghe e quant'altro perché sembra una stupidaggine ma avere un attrezzo ben disinfettato è molto molto importante perché se noi stiamo potando una pianta che la riteniamo malata e poi andiamo subito a potare una pianta sana possiamo portare quel veicolo, quella malattia, quei funghi, batteri o virus dalla pianta malata alla pianta buona. Le piante sono come gli esseri umani, facilmente si infettano tra di loro. Quindi oggi vi propongo sei disinfettanti, andremo a parlare da quello più blando a quello che è ritenuto il migliore. Andiamo subito al video e non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere. Allora ragazzi diciamo che spesso ci sono convinzioni e divergenze su quale è il prodotto migliore indicato per andare a disinfettare i nostri, diciamo, attrezzi da potatura. Quindi oggi cercheremo insieme di chiarire una volta per tutti questi dubbi. Ho fatto una ricerca sui testi dell'Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere e ho trovato un bel manuale dove sono appunto classificati tutti i disinfettanti e le loro proprietà. Diciamo subito cosa significa il termine disinfezione. Significa proprio andare a distruggere tutti i microrganismi patogeni che si trovano sui nostri attrezzi, quindi funghi, batteri e virus, eccezione fatta chiaramente per le spore. Molti disinfettanti ne ho trovati veramente molti, ho cercato proprio di fare una scrematura e cerchiamo proprio di capire quale è il disinfettante più adatto a noi, non solo quello riguardo diciamo ai microrganismi che vogliamo distruggere sulle lame e in modo da non trasmetterli appunto da una pianta malata donna sana, ma anche al fatto che dobbiamo preservare comunque l'integrità degli attrezzi e quindi non deve essere troppo corrosivo e non deve essere neanche troppo pericoloso nell'utilizzo ed anche rispettoso se possibile chiaramente per l'ambiente. Allora vi dico subito che non prenderò in esame diciamo la disinfezione con la fiamma, ossia il cannello con la bomboletta del gas dietro, perché lo ritengo che danneggia l'acciaio delle nostre lame, perché anche se uno sta attento basta diciamo insistere un pochino e l'acciaio può essere che si rovina un po' quindi si iniziano ad ossidare, poi anche oggigiorno i manici sono ricoperti con queste protezioni in pvc e quindi possono essere facilmente danneggiati, invece andremo a prendere in considerazione i disinfettanti scusate di origine chimica. Allora ragazzi partiamo, pongo per ultimo posto i sali quaternari di ammonio anche se spesso nei forum sono tanto blasonati perché perché sono dei disinfettanti davvero di basso livello, riescono a distruggere diversi batteri ma non sono a largo spettro, ok? Ed eliminano poi solo alcuni funghi e virus, ma non sono in grado di eliminare neanche una spora batterica, quindi non li consideriamo proprio. Poi i tempi di contatto di questi disinfettanti sono molto lunghi, parliamo circa di una decina di minuti, quindi vorrebbe dire lasciare a bagno o spruzzare sulla nostra forbice da potatura questo prodotto è a tendere molto tempo, non sono poi neanche facilmente reperibili e anche se hanno diciamo dei costi modici. Subito sopra, come classifica sembra che stiamo in una corsa di macchine, mettiamo gli additivi disinfettanti, diciamo questi qui da presidio medico chirurgico, perché? Perché hanno una buona azione disinfettante, vedete, efficace contro i batteri, lieviti funghi e così via, sono dei disinfettanti che sono a volte costituiti da dei mix, costituiti magari da candeggina, acqua suigenata, comunque riescono a distruggere buona parte di funghi e batteri, hanno però una scarsa azione verso i virus, vengono usati così puri senza andarli a diluire per avere chiaramente la massima efficacia, solamente che hanno dei tempi di applicazione abbastanza lunghi, nell'ordine di una decina di minuti, sono però facili da riperire anche nei supermercati e hanno un basso costo, possiamo con uno spruzzino tipo questi qua, andarli ad inserire nell'interno dello spruzzino e poi spruzzarlo sulle nostre lame ed attendere i 6-7 minuti, 8 minuti prima di andare a fare una nuova potatura. Sono comunque irritanti diciamo per la pelle, quindi consiglio sempre eventualmente nel loro utilizzo di indossare dei guanti di protezione, sono anche leggermente corrosivi per le mani. Un posto ancora più su nel podio, come si dice, ce lo ha l'oglio essenziale di T3, questo spettacoloso olio essenziale che poi è ottenuto dalla distillazione in corrente di vapore delle foglie della pianta della melaleuca, è diciamo un potente antibatterico, antisettico, antivirale e fungicida. L'istituto della sanità poi ce lo conferma proprio come ottima azione di disinfezione data soprattutto dai terpeni che contiene, però c'è da usarlo allo stato puro e perché allo stato puro distrugge la maggior parte di funghi e virus, agisce chiaramente in tempi medi, nell'ordine 3-4 minuti, è ottimo chiaramente perché non corrode i nostri attrezzi, quindi non va a corrodere le lamine acciaio, è un lubrificante e quindi automaticamente lubrifichiamo oltre che disinfettare i nostri attrezzi, non è irritante per il contatto, è uno dei pochi oli insieme a quello della lavanda che può essere usato, degli oli essenziali scusate, che può essere usato direttamente sulla pelle però ha dei costi veramente veramente altissimi, una boccetta da 10 ml in erboristeria sta sopra ai 10 euro, quindi è bello sì ma non balla come si dice, cioè se dobbiamo potare un paio di rose si può anche fare, ma se dobbiamo fare delle potature serie intensive non possiamo ricorrere chiaramente a questo olio essenziale che è naturale e biodegradabile. Un posto più su troviamo la candeggina. Questa candeggina usata così, usata in stato senza diluirla, è in grado di distruggere microorganismi di qualsiasi forma organizzativa, quindi funghi, batteri, virus, eccezione fatta per diciamo alcune spore batteriche. Agisce in tempi relativamente brevi però diciamo nell'ordine di qualche minuto, è chiaramente facile da raperire, ha un basso costo, possiamo anche metterla in uno spruzzetto, quindi andarcela proprio a nebulizzare sulle lame, aspettiamo quei due minuti che agisce, poi possiamo andare a potare l'altra pianta e quindi risolviamo così le nostre potature. Controindicazioni, attenzione ragazzi, la candeggina è veramente irritante, quindi utilizzate sempre i guanti di protezione per utilizzarla. Poi una cosa, se vi cade, ma lo saprete meglio di me, addosso agli indumenti li decolora in maniera irrimediabile, quindi sempre attenzione nell'utilizzo di questo disinfettante. Ancora più su, siamo quasi al podio, troviamo l'acqua ossigenata, questa qui già a 10 volumi, che è una concentrazione appunto di perossido di idrogeno al 3%, è in grado già di distruggere buona parte di funghi, batteri e virus. Quella con 36 volumi, quindi diciamo che è al 10%, quella distrugge tutti i funghi, i batteri e i virus e inoltre lascia fuori solamente alcune espore batteriche, quindi è ottima perché agisce in tempi relativamente brevi, nell'ordine diciamo di qualche di qualche minuto, è facile da reperire, ha un basso costo, possiamo distribuirla in maniera abbastanza tranquilla, ci prendiamo il nostro piccolo nebulizzatore, lo spruzziamo sulle nostre lame delle forbici da pota, degli attrezzi da potatura e aspettiamo appunto quel paio di minuti e possiamo fare un altro nuovo taglio su un'altra pianta. Non deve essere, mi raccomando, mai mescolata ad altri disinfettanti, perché se non facciamo da solo il mix sperando che i due disinfettanti migliorano le prestazioni, invece proprio non è così, l'efficacia dell'acqua assigenata perde concentrazione. Quindi di nuovo attenzione però che i 36 volumi di di questa acqua assigenata sono irritanti per la pelle, quindi consiglio ancora l'utilizzo di guanti per la protezione della pelle o altrimenti se non volete proprio utilizzarli appena vi cade sulle mani, lavatele abbondantemente con acqua in modo che diluite subito la concentrazione di questa acqua assigenata. È però un po' corrosiva per i metalli, quindi questa diciamo è l'unica pecca che sono riuscito a trovare. E sul podio, ragazzi, troviamo l'alcol etilico. L'alcol etilico, ragazzi, ha un controllo di distruzione dei batteri anche nella fase vegetativa e controlla anche, diciamo, buona parte delle spore. Funghi, batteri e virus li elimina completamente. Che cosa ha di bello? Che è facile da reperire. Ha dei tempi di azione brevissimi, di contatto brevissimi, nell'ordine dei 30-40 secondi riesce già a fare la sua disinfezione e ha un basso costo. Possiamo proprio andarcelo a mettere nei piccoli flaconi con lo spruzzatore, andare a prendere i nostri arnesi, nebulizzarlo in questo modo qua, aspettare che evapora perché in primavera diciamo fa presto ad evaporare. Appena evaporato, quindi passati quei 15-20 secondi, gli diamo un'altra spruzzata. Se le giornate sono molto umide andiamo a pulire con lo scoptex e facciamo una seconda nebulizzazione ed aspettiamo un'altra 20 secondi. Quindi con 30-40 secondi abbiamo garantito una disinfezione del nostro attrezzo da potatura. Non è poi corrosivo, mantiene anche puliti gli attrezzi, di contro a una sola cosa, è altamente infiammabile, quindi massima attenzione nell'utilizzo. Si deve utilizzare lontani da fiamme, fonti di calore e non fumate perché altrimenti fate un piccolo falò. Quindi ultimo consiglio, ho detto tutto quanto. Prima di riporre i nostri attrezzi magari diamogli una passata, una spruzzatina con olio di vasellina in modo da proteggerli da eventuale ossidazione per un lungo periodo di utilizzo. Io termino qui ragazzi, spero che anche questo video sia stato di vostro aiuto e gradimento. Ci vediamo alla prossima, lascio sempre gli ultimi 6 secondi del video dove trovate altri link interessanti che vi porteranno a video e attinente all'argomento. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, un abbraccio! Ciao!